Lavoro di promozione Mercoledì 21 novembre, San Gelasio primo, è il 325esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 40 al termine. Il sole sorge alle 7.18, tramonta alle 16.39. La luna sorge alle 16.03, tramonta alle 4.47. Dopo ben due mesi di assedio, una rivolta popolare, seguita dalla conquista dei veneziani della porta di San Giovanni, mette fine alla dinastia di Ida Carrara. Padova si consegna alla Repubblica di San Marco. Le previsioni per domani. Sereno, un poco nuvoloso in montagna. In pianura, maggiori annuvolamenti irregolari, alternati a schiarite. Possibili locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde, in pianura e in qualche fondovalle prealpino. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni. Precipitazioni assenti.